salve a tutti amici e ben ritrovati il video di oggi parla dell'affondamento della corazzata roma avvenuto il 9 settembre 1943 fu un evento drammatico per la nostra marina e la storia del nostro paese in un momento della guerra in cui le forze armate in generale aviazione marina ed esercito cercavano di ridisporsi e mobilitarsi a seguito di ordini non sempre chiari e precisi informazioni frammentarie che arrivavano dai centri di comando nelle mie letture spesso riguardanti i piloti della regge aeronautica mi sono spesso reso conto di quanto fosse confusa la situazione in quei giorni le scelte che facevano quei piloti quasi mai avevano un carattere ideologico o almeno non come lo intendiamo noi oggi cittadini che non abbiamo mai conosciuto la guerra così come la conobbero loro almeno all'epoca le scelte che determinarono da che parte stare dopo l'otto settembre e chi è più storico di me potrà confermarlo spesso furono determinate dal desiderio di avvicinarsi alle famiglie al rispetto delle istituzioni che si era servito fino a quel momento oppure a non voler tradire l'alleato tedesco con cui si era condiviso tutto in tre anni di guerra non è compito mio sindagare queste decisioni ma è chiaro che una cosa è affrontare la questione oggi a freddo e prendendo un singolo pilota e il suo aeroplano o una piccola squadriglia un'altra è pensare a un ammiraglio o il comandante di una nave che aveva la responsabilità di centinaia di vite sotto il suo comando in ogni caso per noi oggi è veramente difficile immaginare di trovarci al loro posto quando iniziarono ad arrivare ordini di mobilitazione di auto affondarsi o di consegnarsi a seconda delle circostanze dirigersi verso quei porti che erano stati il nemico fino a quel momento o rivolgere le proprie armi contro quello che fino al giorno prima era un alleato non sapremo mai poi in che modo i tedeschi vennero a conoscenza delle intenzioni della flotta italiana che lasciava la spezia per dirigersi verso sud perché di fatto l'ammiraglio bergamini apprese della situazione solo poche ore prima di partire quindi la missione di attacco tedesca che si svolse il primo pomeriggio del 9 settembre solleva ancora oggi non pochi interrogativi ma non è compito mio fare luce su questo oggi mi limiterò a ricostruire gli eventi che porteranno alla perdita della corazzata roma evidenziando anche alcuni dettagli di non poco conto come sempre cari amici prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra c'è il bottone per farlo la nave da battaglia roma fu la terza della classe vittorio o classe vittorio veneto è la stessa cosa realizzata presso i cantieri navali san marco di trieste con il varo nel 1940 e poi completata il 14 giugno del 42 queste navi furono le più grandi mai possedute dal regno d'italia il 6 maggio del 40 e il 28 aprile del 40 la littorio e la vittorio veneto pari classe della roma rappresentarono le più potenti navi al mondo per la potenza della loro artiglieria specialmente in termini di gittata dati che verranno superati solo a partire dal 42 con le corazzate americane di classe aiowa o le giapponesi yamato e la gemella musashi la classe vittorio si mostrava con un dislocamento medio di 45.000 tonnellate una lunghezza di 237,8 metri una larghezza di 32 metri e una velocità massima di 30 nodi la roma fu l'unica a equipaggiarsi con un sistema radar di scoperta di superficie il modello ec 3 ter gufo che fu montato soltanto su 13 unità navale navali italiane durante il conflitto l'armamento della classe vittorio e in particolare della roma su cui ci concentreremo oggi era composto da 9 cannoni otto anzaldo da 381 50 con tre installazioni trinate 12 cannoni da 152 55 con quattro torrette trinate quattro cannoni da 120 per il lancio di bengala e 12 cannoni anti aerei flak da 90 mm più 20 cannoncini breda da 37 mm 28 da 20 mm e 5 mitragliatrici singole da 13,2 con una corazzatura da 350 mm verticale 207 orizzontale e 260 mm nella torre di comando la nave disponeva anche di tre catapulte che potevano lanciare da due a tre aerei per la ricognizione come gli imam ro 43 o successivamente i reggiane 2000 questa imponente impostazione dedicata ai pezzi offensivi per l'artiglieria però non era esente da difetti i pezzi principali avevano una forte dispersione delle salve sul bersaglio a causa in parte dei proiettili non standardizzati inoltre le canne si usuravano velocemente con un netto calo delle prestazioni nel tempo la capacità difensiva della nave contro attacchi aerei non era particolarmente potente almeno non se paragonata alle unità americane e giapponesi e il radar gufo equipaggiato sulla roma non era all'altezza delle controparti inglesi soprattutto per quanto riguardava l'individuazione degli attacchi aerei la pregettazione di queste classi di navi poi fu orientata per ottenere la massima velocità e potenza di fuoco obiettivi che furono raggiunti ma al prezzo di un'autonomia ridotta ed un carico di sole 4.000 tonnellate di carburante quindi queste navi furono progettate per operare nel mediterraneo non per compiti globali la littorio le classi littorio avevano anche una protezione subacquea super resistente che salvò più volte le navi anche a livello di cintura di murata vi erano notevoli particolarità a differenza di tutte le altre costruzioni mondiali la protezione esterna non era costituita da piastre verticali ma da più strati di piastre inclinate mentre la protezione orizzontale era affidata a due ponti corazzati nel momento in cui vennero costruito ovviamente nessuno avrebbe previsto l'impiego di bombe perforanti con lanci da oltre 5.000 metri e l'affondamento della roma non significa che queste navi erano deboli anzi nel corso della guerra subirono diversi attacchi con bombe e siluri e la stessa corazzata italia ex littorio gemella della roma fu colpita allo stesso dallo stesso tipo di bomba volante e continuò la navigazione la resistenza delle corazzature venne testata nel maggio del 1935 alla spezia nelle prove le corazzatura la corazzatura si dimostrò capace di resistere all'impatto di proiettili perforanti da 406 mm sparati da una distanza di 24.000 metri e a quello di bombe d'aereo da 1200 kg fino a bombe perforanti da 835 kg entrambe queste bombe furono testate con una velocità d'urto di 250 metri al secondo cioè la massima velocità naturale di caduta in quanto ad allora non esistevano bombe con propellente a razzo la cintura principale aveva uno spessore adeguato per affrontare le unità moderne nemiche a distanze superiori ai 20.000 metri ma contro i cannoni inglesi di vecchio tipo aveva un'efficacia presumibilmente tale da fermare le munizioni fino a circa 12.000 metri la corazza del ponte era molto spessa con vari livelli dotati di ponti corazzati secondari il ponte inferiore detto di batteria aveva uno spessore massimo di 100 mm quello mediano detto di coperta uno spessore di 50 mm e più alto il castello uno spessore di 36 mm lo spessore della corazza del ponte di batteria raggiungeva però i 150 mm in corrispondenza dei depositi di munizioni mentre si assottigliava fino ai 90 mm presso le murate per quanto riguarda le torri i calibri principali erano protetti da piastre dello spessore massimo di 350 mm quelle da 152 da 152 mm concepite per resistere a munizioni di pari calibro il torrione era protetto da corazza di 260 mm mentre il tubo corazzato interno aveva 200 mm di spessore e serviva al passaggio degli uomini da un piano all'altro del torrione e al passaggio dei cavi che costituivano un vero e proprio midollo spinale della nave in quanto trasmettevano tutti gli ordini e ricevevano tutte le informazioni concernenti le armi le motrici e i sistemi di sicurezza per rendere lo scafo più resistente agli attacchi subacquei venne adottato il sistema dei cilindri pugliese ideati dallo stesso progettista i cilindri pugliese consistevano in contenitori da 3,8 metri di diametro e 120 di lunghezza collocati all'interno di un intercapedine fra lo scafo interno e la murata esterna e riempiti con acqua o a nafta in caso di esplosione di mina o siluro la potenza d'urto sarebbe stata distribuita in tutte le direzioni diminuendo i relativi danni queste navi insomma erano di notevole qualità e prestigio tecnico furono l'orgoglio della regia marina ma ebbero un impiego molto ridotto durante la seconda guerra mondiale la littorio venne gravemente danneggiata con tre siluri dagli aerosiduranti swordfish durante la notte di taranto l'11 novembre del 1940 e rientrò in servizio oltre sei mesi più tardi mentre nel 1941 la vittorio veneto fu la nave di bandiera dell'ammiraglio di squadra angelo jacchino durante lo scontro navale a largo di capo matapan dove sparò 94 colpi senza esito e incassò un siluro senza conseguenze rimediabili ma con una notevole entrata d'acqua e perdita di velocità l'esito drammatico per la nostra marina della battaglia di capo matapan determinò un atteggiamento ancora più prudente e rinunciatario da parte di supermarina e queste unità presto verranno utilizzate solo in ruoli minori in questo contesto la nave roma entrava in servizio il 14 giugno 1943 raggiunse taranto il 22 agosto dove fu assegnata alla nona divisione navale insieme alla littorio e vittorio veneto ma in quei giorni la situazione nordafrica cambiava molto rapidamente specialmente dopo lo sbarco degli alleati in algeria durante l'operazione torch e da lì inizieranno gli alleati a lanciare i raid aerei su tutta la penisola italiana l'11 novembre veniva ordinato alle unità di raggiungere napoli e un mese dopo la città subiva un violento bombardamento aereo non il primo né l'ultimo di oltre 200 incursioni con perdite fra i civili stimate fra le 20 e le 25 mila la corazzata roma sfuggiva fortunatamente a questi bombardamenti ma le veniva ordinato di raggiungere la spezia dove sostava ricevendo manutenzioni ordinarie al porto vicino di genova due mesi dopo i porti di la spezia genova furono oggetto di diversi raid inglesi e americani che causarono l'affondamento del calciatore piliniere alpino e causarono danni alla littorio la roma fu colpita mentre era di nuovo alla spezia il 5 giugno del 43 e alle 13 e 59 da un raid composto da 118 fortezze volanti americane una bomba esplose vicino alla prua provocando danni da concussione con l'apertura di una falla sul lato di dritta una seconda bomba aprì una falla a sinistra della prua la nave imbarcò 2350 tonnellate d'acqua che la fecero sbandare e poi poggiarsi sul fondo del porto anche la vittorio veneto fu danneggiata ma poteva essere riparata in poco più di un mese per la roma che subì poi altre bombe nella notte del 24 giugno dovette essere trasferita a genova per riparazioni che si conclusero solo il 13 agosto del 43 mancava meno di un mese all'otto settembre e in quei giorni l'ammiraglio bergamini trasferì il suo comando proprio sulla roma l'ammiraglio stava preparando la divisione navale composta dalle tre corazzate quindi la roma la vittorio veneto e l'italia che era l'ex littorio più tutti gli incrociatori monte cuccioli scusate monte cuccoli genio di savoia e attilio regolo della settima divisione le stava preparando per partecipare alle operazioni in difesa di salerno visto lo sbarco imminente americano con la partenza prevista proprio dopo l'otto settembre ma nella stessa giornata venne avvertito telefonicamente dal capo di stato maggiore della marina raffaele de curten dell'armistizio ormai imminente e delle relative clausole che riguardavano la flotta che prevedevano il trasferimento immediato delle navi italiane in località che sarebbero state designate dal comandante in capo alleato dove le navi italiane sarebbero rimaste in attesa di conoscere il proprio destino de curten dopo aver escluso l'auto affondamento e la possibilità di tentare un'ultima battaglia contro gli alleati accettò le disposizioni in partita dell'ammiraglio andrew coningham capo della mediterraneo fleet britannica pergamini che ha preso dell'ultimatum alle 18 e 30 dalle radio civili estere chiamò de curten piuttosto infuriato per essere stato tenuto all'oscuro degli ultimi sviluppi dichiarandosi pronto all'auto affondamento della flotta e a rassegnare le proprie dimissioni salvo poi accettare con reluttanza agli ordini dopo che fu rassicurato da de curten che il gruppo navale avrebbe raggiunto il re vittorio emanuele terzo e il governo alla maddalena cosa che non era vera perché de curten sapeva benissimo che il trasferimento del re era stato compromesso supermarina in ogni caso trasmise l'ordine di partenza di tutte le navi in grado di muovere proprio dalla spezia entro le 23 e 45 lo stesso ammiraglio inglese cunningham conscio che le navi italiane non avrebbero avuto protezione aerea informò che avrebbero dovuto mollare gli ormeggi dalla spezia al tramonto dell'otto settembre ma la squadra navale italiana sottovalutando il pericolo rappresentato dalla luto affe salpò solamente il giorno successivo alle 3 del mattino del 9 settembre elemento che si mostrerà fatale e critico questo dovrebbe far riflettere perché cunningham aveva dimostrato un grande rispetto per la marina italiana e fu lui al comando della squadra navale che aveva sconfitto proprio l'alittorio e la sua squadra nella battaglia di capo matapan salvando poi centinaia di marina italiani dalle navi affondate e inviando personalmente un messaggio con la posizione dei superstiti e non sappiamo le motivazioni per cui pergamini ignorò il suo consiglio se fosse stato intenzionale o se la flotta non fosse pronta a salpare al tramonto ma quelle ore di ritardo si rilevarono fatali la formazione così poco dopo le 6 del mattino si ricongiunse con il gruppo navale proveniente da genova formato dalle unità navali della ottava divisione costituita dalla garibaldi duca d'aosta e duca degli abruzzi nave in segna dell'ammiraglio luigi biancheri dopo il ricongiungimento delle due formazioni navali puntarono insieme verso sud mantenendosi a una ventina di chilometri dalle coste occidentali della corsica durante la navigazione vi furono tre allarmi aerei in occasione dei quali si misero le navi a zigzagare prossime all'imboccatura delle bocche di bonifacio all'altezza di capotesta la squadra si dispose in linea con in testa le sei torpediniere quindi i sei incrociatori seguiti dalle tre corazzate e fine gli otto caccia torpediniere dalle 9 del mattino supermarina aveva trasmesso l'ordine di reagire ad eventuali ostilità da parte delle forze tedesche poi alle 11 e 50 supermarina iniziò a trasmettere in chiaro un proclama di de corten che incitava i marinai alla reazione verso gli alleati tedeschi gli ex alleati tedeschi l'ammiraglio bergamini aveva chiesto una scorta aerea quasi tutte le squadriglie da caccia in sardegna e corsica erano in trasferimento verso roma in quelle ore di incertezza e disordine che raccontavo prima solo quattro macchi macchi 202 decollarono da olbia senza conoscere la posizione della flotta e a causa delle radio di bordo non funzionanti la cercarono senza esito per oltre un'ora a est della corsica ignorando il fatto che questa invece fosse a ovest alle 14 e 24 con la flotta che ormai si trovava al traverso delle bocche di monifacio l'ammiraglio bergamini ricevette da supermarina un messaggio con il quale si comunicava che la maddalena era stata occupata dai tedeschi e così gli venne ordinato di cambiare rotta e dirigersi a bona in algeria bergamini così ordinò di invertire subito la rotta di 180 gradi e dopo che la manovra venne eseguita a velocità elevata l'ordine della linea di fila si trovò praticamente all'opposto di quello precedente con i cacciatorpediniere in testa e le torpediniere in coda e con la roma in coda alla nona divisione in direzione nord ovest e intenta a doppiare a sinara e così potersi dirigersi in algeria la flotta fu sorvolata alle 15 10 da 28 bimotori d'ornier 217 tedeschi partiti dai stress vicino a marsiglia i piloti tedeschi avevano ricevuto ordini di colpire unicamente le corazzate gli aerei si portarono in volo livellato a 5.000 metri sopra la flotta italiana e sganciarono degli oggetti affusolati con una coda luminosa questo bagliore inizialmente fu scambiato per un segnale di riconoscimento dagli osservatori sulle navi ma in realtà si trattava della luce che permetteva al copilota del bombardiere di guidare la bomba con precisione sul bersaglio con un dispositivo di controllo a onde corte si trattava di bombe radio guidate rutschall sd 1400 conosciute dagli alleati con il nome di fritz x la cui forza di penetrazione era conferita dall'alta velocità acquisita in caduta ed erano pensate per essere lanciate da altezze superiori ai 5.000 metri a quelle quote gli aerei erano imprendibili per la contraerea e comunque quando ci si rese conto di quello che stava accadendo le postazioni avevano raggiunto il loro limite in termini in termini di alzo della canna dopo che i bombardieri del tutto indisturbati avevano avuto il tempo di allinearsi ai loro obiettivi la prima bomba fu diretta contro l'eugenio di savoia cadendo a circa 50 metri dall'incrociatore senza provocare alcun danno mentre una seconda bomba cadde vicinissima alla poppa della italia danneggiando la centrale elettrica e immobilizzandone temporaneamente il timone e a quel punto toccò alla roma gli aerei fallirono una prima volta il tiro ma alle 15 e 42 in un secondo passaggio un bombardiere centrò la corazzata una prima volta fra la quinta e la sesta torre antiaerea da 90 millimetri di dritta il colpo non produsse effetti devastanti ma attraversò lo scafo esplodendo sott'acqua e aprendo una falla ma la seconda bomba alle 15 e 50 centro la nave verso prua sul lato sinistro fra il torrione di comando e la torre sopraelevata armata con i cannoni da 381 millimetri in un istante i depositi di munizioni deflaglarono e cessò l'erogazione l'erogazione dell'energia elettrica e la torre numero 2 quella con i cannoni da 381 millimetri saltò in aria con tutta la sua massa di 1500 tonnellate ricadendo poi in mare la torre corazzata di comando fu investita da una tale vampata che fu deformata e piegata dal calore fatta a pezzi e proiettata in alto in mezzo a due enormi colonne di fumo in quell'istante morirono l'ammiraglio bergamini e il suo stato maggiore così il comandante della nave adone del cima e buona parte dell'equipaggio la vampata dell'esplosione fu visibile a chilometri di distanza formando una colonna di fumo alta più di un chilometro venti minuti dopo la nave si capovolse e spezzata in due tronconi affondò mentre sul ponte si affannavano i marinai superstiti molti gravemente feriti e ostionati chi era a bordo ovviamente era condannato la scena della roma che si spacca in due tronconi fu immortalata da una in una fotografia scattata da un ricognitore britannico che fu poi anch'esso preso di mira dal fuoco rabbioso della contraerea delle navi e mentre la roma affondava l'italia fu nuovamente attaccata e questa volta colpita da una bomba che colpì a prua sul lato di dritta all'altezza dello spazio fra le torrette di prua che la attraversò completamente esplodendo in acqua si produsse una falla sotto la linea di galleggiamento ma l'italia rimase in navigazione i due cacciatorpedinieri mitragliere e carabiniere invertirono immediatamente la rotta per recuperare i superstiti della roma seguiti dal regolo e fuciliere e a queste unità si aggiunsero le torpediniere pegaso orsa e impetuoso ben 1352 marinai dalla roma persero la vita i naufraghi recuperati dalle unità navali inviate in loro soccorso furono 622 a prendere il comando della flotta dopo l'affondamento della roma fu l'ammiraglio oliva e mentre le sette navi si erano fermate a recuperare i morti e i feriti della roma il resto della squadra proseguì la navigazione dirigendo verso bona per tutta la notte e al mattino del 10 settembre ci fu l'incontro con le navi alleate la warspite e la valiant che escortarono le unità italiane verso malta raggiunta poi il mattino del giorno 11 il recupero dei marinai ad opera delle sette navi rimaste sulla scena si concluse poco dopo le 18 il comandante del mitragliere capitano di vascello giuseppe marini come ufficiale più anziano si trovava all'improvviso a dover prendere delle decisioni difficili sprovvisto delle informazioni utili a questo scopo il gruppo si trovava nella impossibilità di mettersi in contatto con la formazione al comando dell'ammiraglio oliva e con supermarina non ricevendo risposta ai loro messaggi e inoltre le intercettazioni di alcuni messaggi di supermarina dimostravano l'impossibilità di rientrare in porti italiani almeno per sbarcare i feriti che avevano urgente bisogno di cure ospedaliere per cui era a quel punto necessario raggiungere le coste neutrali più vicine per lo sbarco dei feriti che non era possibile curare a bordo a causa della gravità delle loro condizioni inoltre le navi avevano ormai una ridotta autonomia a causa della riduzione delle scorte di nafta marini così diede ordine alle torpediniere di libertà di manovra sotto il comando del capitano di fregata riccardo imperiali comandante della pegaso assumendo il comando del resto della formazione composta dal regolo e dai tre cacciatorpedinieri marini decise di dirigersi così verso le isole baleari considerando che la spagna era neutrale sperando che avrebbe consentito lo sbarco dei feriti e fornito i necessari rifornimenti di carburante acqua potabile senza procedere all'internamento delle navi marini alle 7 10 del 10 settembre inviò un messaggio alla settima divisione incrociatori in cui informò che avrebbe fatto rotta per maon nell'isola di minorca dove arrivò poi alle 8 e 30 mentre le tre torpediniere al comando del capitano di fregata imperiali perso ogni contatto con le altre navi si deressero autonomamente verso le baleari giungendo nella baia di pollenza nell'isola di maiorca dove dove dopo aver sbarcato gli equipaggi imperiali decise di auto affondare le unità ai suoi ordini dei 622 naufraghi recuperati dalle 7 unità 26 perirono successivamente per le ferite e sono sepolti nel cimitero di maon questa è la storia della roma e di quello che è accaduto negli anni successivi sono stati diversi i tentativi di localizzare e recuperare il relitto generalmente ritenuto riposare a una ventina di miglia a largo di castel sardo in provincia di sassari l'ex capo di stato maggiore della marina paolo la rosa considera il relitto della roma un cimitero da non profanare nel 2007 una spedizione sembra aver individuato l'esatta posizione del relitto di cui è stata scattata anche una foto con un mini sottomarino attirando così l'attenzione di due case cinematografiche la tedesca context tv e la svizzera polividio che si misero in contatto con la marina militare per ottenere il permesso di girare un documentario senza tuttavia giungere a nulla nel 2011 un'associazione marinara sarda suggeriva nuove coordinate circa l'esatta ubicazione della roma questa tenendo conto delle infruttuose ricerche della marina militare avvenuta fra il 2003 e 2007 e dopo aver vagliato documenti ufficiali italiani è giunta alla conclusione che la roma si trovava a 33 miglia a nord ovest della sinara il relitto della corazzata roma è stato infine trovato il 17 giugno 2012 dall'ingegnere guido gai grazie all'ausilio del mini sottomarino filo guidato plutopalla da lui stesso inventato e comandato da bordo del catamarano daedalus il racconto della scoperta e dello stesso gai è contenuto nel suo libro dedicato alla corazzata roma destinazione finale la nave è stata individuata nel canyon subacqueo di castel sardo nel golfo della sinara a 16 miglia dalla costa e a una profondità di oltre mille metri e risulta spezzata in quattro tronconi personale della marina militare è stato in grado di confermare il 28 giugno 2012 l'esattezza del ritrovamento confrontando le immagini di alcuni cannoni di artiglieria contraerea si trattava dei pezzi ansaldo da 90 mm presenti solo sulle corazzate il troncone di prua capovolto e adagiato nella sabbia del fondale è staccato dal resto dello scafo all'altezza della torre numero 2 e fotografie scattate permettevano di vedere lo scudo della corazzata con le lettere qr dell'acronimo spqr sporgere dal fondo il resto della carena anch'essa capovolta giace distante qualche centinaio di metri dalla prua lo spezzone conserva gli assi e le eliche esterne ancora in buono stato di conservazione il ponte che originariamente stava sopra lo spezzone centrale della nave si è staccato dalla stessa e si è posato in assetto di navigazione con il torrione di comando caduto a dritta è proprio sul ponte che è stato possibile individuare l'artiglieria antiaerea con i cannoni ansaldo da 90 mm nonché i telemetri dei cannoni da 381 mm quelli da 152 e la placcia comando e ammiraglio il troncone di poppa si è posato lungo il pendio del canyon questa sezione che si è staccata a sua volta dal resto dello scafo proprio all'altezza del nome roma che quindi non è più identificabile conserva l'elica sinistra e la corona dei savoia perfettamente conservata posta all'estremità nelle vicinanze è presente la torre numero 3 e il relitto dell'idrovolante imam ro 43 che fu visto all'epoca dai testimoni scivolare in mare al momento dell'affondamento quindi questa triste storia si conclude qui il destino della roma sembra essere così simile a quanto era avvenuto in germania con la bismarck e in giappone con la sua bellissima corazzata yamato affondata quest'ultima anche da un attacco aereo ma la roma è diversa in un certo senso fu la prima nave da affondare a causa di un tipo di bomba mai vista fino ad allora che i giornalisti de neoi altri oggi chiamerebbero bomba intelligente anche se intelligente non era era piuttosto una bomba guidata non essendoci filmati e immagini tutto quello che abbiamo sono poche fotografie e la sua colonna di fumo che si solleva in aria scattata proprio da quel ricognitore inglese per le modalità con cui è avvenuta l'esplosione a prua molti credono che sia stata molto simile a quella che coinvolse la corazzata arizona nella rada di perl arbour il 7 dicembre del 41 dove i depositi di munizioni a prua esplosero proprio a caso di una bomba perforante giapponese quindi la roma la yamato la bismarck l'arrizona la marat e tante altre grandi navi sono sono navi sono diventate così il simbolo della vulnerabilità delle grandi corazzate agli attacchi aerei e questi eventi hanno segnato anche la fine di un'epoca in un certo senso con tutto il rispetto per le vite di migliaia di marinai che vi hanno perso la vita e niente con questo concludo il mio video fatemi sapere nei commenti come sempre cosa ne pensate un abbraccio alla prossima